Eeeh, salve a tutti i genitori con C'è Gagapala e oggi sono qui con un nuovo episodio di Luigi Dream Team Nella scorsa puntata, dopo aver avuto un'intensa battaglia con Piumadormo Siamo... abbiamo pressoché finito con la foresta, ci è stato detto che Piumadormo avrebbe fatto un'ispezione al castello di Bowser E che ci avrebbe incontrato a fine della foresta Io tanto bene sono andato qui, già verso la fine della foresta, affrontando tutti i nemici Così tanto da fare a malapena due livelli per i fratelli Salvando, rischiando di non per... rischiando di... attivare Cazzin Ma se me lo attiva fino alla foresta e non c'era niente, quindi... ok Non ce l'ho da preoccuparsi, immagino che la Cazzin avrà l'uscita Ecco il blocco, adesso l'ho colpito E... quindi... Ci ha detto che aspettiamo fuori... fuori dalla foresta Eccoli Fatto! Ho espezzato il castello! Va bene, tra l'altro Mario adesso ha un debito Eh... ho come l'impressione che con lui sarà un caso simile Come era col drago lingua lunga in sopra star saga E' proprio come ricevi, occorre sfondare la barriera protettiva Bene, Mario, Luigi, tenetevi pronti Possiamo... eh... partire? Ehm... no, sì, immaginavo che fu così Avanti ragazzi, non siete pronti? Va bene, aspetta qui Ma voi, datevi una mossa Va bene, non guardiamo la riga in mezzo al suo corpo Ma comunque, beh, almeno fammi fare il fornimento Ehm... sono a livello 36 Altri 4 livelli e avrei sbloccato il... Ehm... dannato rango Spero mi farò tornare indietro Ma comunque almeno i fornimenti di sormenti li devo fare Magi fungo direttamente A me per le cure basta solo un super fungo Per le cure nell'overworld Questo qua Ehm... magi fungo possiamo... Beh, ok, ok, magi fungo è un po' troppo costoso, spiace Queste per le battaglie boss, tipo Stessa cosa per i sciroppi Super sciroppo tanto per E poi... Ultra sciroppo, giusto per Ok Non starò qui a farmare level up Probabilmente castello di Bowser Stiamo andando verso l'ultimo dungeon Probabilmente lì farò i level up che servono E spero di poter tornare indietro Voglio tanto acquistare roba in quel negozio Ehi là, vi stavo aspettando Ok, andiamo Sì Bene, facciamolo Via Piccolo, è il castello di Bowser Eccolo, è il castello di Bowser Piccolo, è il castello piccolo Cosa... cos'è quello? Sì, avvicina È un... uccello? Negativo Sembra più un... Fagottino ripieno Dici... a me sembra un... Magliala volante, bello paffuto Negativo Con brogno... Con fermo che si tratta di un... Rospaccio troppo cresciuto Cosa? Non so perché ma... Sono irritato Piuma d'arma è furioso Una fuori incontenibile Solo la distruzione di quella barriera Placcherà la mia ira Sto arrivando Beccatevi questa La mia potentissima sveglia sfera Sveglia Sfera Serviva andare in un modello 3D Per fare quell'animazione La vostra... è la vostra fine Sfera Oh, il castello è crollato Aiuto! Pericolo! Si salve chi può! Si salve chi può! Lol, non pensavo di avervi crollato il castello Ah, beh Ma almeno è crollato in un posto sicuro Giusto giusto per la mappa Ottimo lavoro Hai distrutto la barriera Ti siamo riconoscenti Grande Piuma d'Ormo Che... che fatica c'è enorme È passato un po' dall'ultima volta Che ho usato la sveglia sfera Sono fuori forma Suppongo che il castello di Bowser Si è atterrato da quelle parti Oh, giusto giusto Perseguite in quella direzione Potete entrarci Lì deciderete il vostro destino Il mio computer è terminato Mi spiace Devo riposare Certo Bowser Temario Temerario Temerario Quindi quello è quello che sarà Un castello C'è un negozio dei passi Ok Ok Se è quello che ha fatto Finalmente ci siamo Questo posto Sembra Incustodito Avanti Sberghiamoci E facciamo attenzione Va bene Ma c'è un cuscino prima E un coso da attivare Grazie coso da attivare Spero ce ne sia uno Anche nel bel mezzo del castello Andiamo Non sono ancora andato Anche da vecchio nero Alla prossima Ok Parleggi per Immagino voglia la sfera Se vuole la sfera Ah Just Stavagione Cosa Wait Ok 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 Vediamo se cosa funziona No Ah Ok Ah non so perché mi ci vuoto tanto ma va bene Un normalino Chissà com'era quest'aria prima che crollava il castello Qualmente inutile però chissà se c'era questo cuscino Dove sono Cos'è questo edificio enorme Quando l'hanno costruito Che gusti orribili Hanno certa gente Per caso conoscete chi ha costruito questa abominia Ha fatto tutto da solo O gli avete dato una mano Ok Giusto qua per Discutere dei castelli C'è un salvataggio già C'è un miniboss giusto per entrare Ah Che bella sensazione Beh il castello è precipitato Sua scrobucità non sembra averla presa troppo male Comunque sia Questi rami sono così rilassanti Mi sento rinato Certo che sono strani Ma sono anche così comodi Vero Sono un po' sospetti Chissà che tipo di energia Scorre in questi rami Su via Stiamo pensando troppo E pensare Non si dice Ai Dei Gregari come noi Già Bei tempi quando eravamo Il trio elite Ricordate? Proprio bei tempi Mario Allarme intrusi Allarme intrusi Oh no Non sottovalutaci Solo perché ora siamo Additi alle pulizie Avanti ragazzi È ora di usare La nostra tecnica segreta Mega Super Ritirata strategica Oh well Lo so che sono Nostri avversari Ma La loro capacità Di fuoco È invidiabile Temo che Troveremo molti nemici Ad attenerci Ora che siamo All'interno del castello Mario Luigi Fate un bel respiro E non lasciatevi Intimorire Well Ok Ma avete parlato Di quello Già giusto per Sottoposti Dovete saltare Molto in alto Per attivare Il riduttore del castello Ah ok Ma non lasciatelo aperto O fareste O farete I conti Con Bowser in persona Eh sì Un caldo Benvenuto Al neo castello Di Bowser Siete giunti Fin qui solo Per essere annientati Ammetto che Per far Precipitare il castello Dal cielo È stata una bella mossa Ma la vostra fortuna Finisce qui Ora Ve la Vedrete brutta Attacchi speciali Ok Dacci il puzzle Di questo Cangio I collegamenti I collegamenti Tra le varie stanze Sono tutti Inrinfusa Passate il resto Di vostri giorni A cercare l'uscita Da questa stanza Chi I kamek Da questa parte Sono io La vostra unica Speranza Di uscire da qui Ma Non mi prenderete mai Vi pentirete Di Ammetto Di Ammaramente Di avere sfidato Il grande Possente Bowser Ok Kamek È fuggito Del mondo Onirico Dobbiamo Fare Di tutto Per raggiungerlo E quello lì Sembra un punto Speciale Per far dormire Luigi Se Luigi Può dormire lì Abbiamo una possibilità Ma prima Dobbiamo occuparci Di quella gabbia Sono sicuro Che ci sa Un interitore Da qualche parte Ecco Lì Sembra un sogno Punto Per usare Tipo La magia Del sole Quello che è Well Aspetta Questo effettivamente Non è influenzato A me Un gioco Fa fatica A caricare Questa specifica Ma Eccolo L'abbiamo trovato Deve essere L'interruttore Ah Non è il blocco Kamek Ma il muro È troppo alto Non ci arriveremo mai Dobbiamo trovare Un'altra Strada Andiamo Quindi così che funzionerà Disattivo qualcosa Triangolo Ok Well Come siete Siete diversi Dei boomerang Brawls Non posso usare Il fiore di fuoco Quindi Luigi Mi sei molto inutile Però Sempre bello Vedere che sei più veloci Di tutti Ok Non siete Forti Questo è sicuro Ha visto Di nemici Molto più Intimorenti Più in là Al centro C'è un triangolo Ma non so che cavolo faccio Forse blocco Cambia il dove ti teletrasporta Con la porta Tu che cavolo sei Focchi romo Focchi romrac Ok Non ci proverò più Che dire Well Vediamo quanto resisti Sei da solo Che la cosa fa pensare Che magari sei un po' più potente Sei più veloce di Mario E questo è sicuro Ok 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 Ho capito Ho capito Più o meno Devo riattivare I scudi Nuovo territorio nemico Nuova sfida Tutto sembra incredibilmente Le pole Letteralmente i nemici della foresta Mi occupavano più Cioè Vabbè Sono soli però Ehm Well Ficami da te esperienze Questo punto Dammi un po' di questo Men che cachette Ah ho capito Quella l'aria non è accessibile Quindi ora che è triangolo Si deve trasportare lì Yep Grazie per averci lasciato un blocco Kamek E il puzzle Sembra già finito Sbaglio Ehm Ok Ah quello è successo Non capivo perché era così in fondo Non è così confuso Come credevo Ciao Hai tanta voglia di affrontarmi Whatever Perché Luigi Perché Luigi Ah no 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 Vai risvegliati Eh che cacchio Piantare far bambino Vai Ma come perde comunque il turno Va bene va bene devo mettere il cavolo Indebolitevi Mi avete fatto perdere il turno di mare In cui vi posso massacrare Siete maledetti Ehm Hanno poca vita Però fanno danno Che dire Ricordiamocene ora Si Ok Ok Beh dobbiamo prima far sincronizzare questi E poi possiamo fare cose Si può già prendere contatto speciale Yes Il primo tassello Di Newcastle Bowser Probabilmente l'ultimo Ah ce ne sarà uno nel mondo onirico di Bowser Probabilmente però Qua sembra di Fare così Si Beh quale ragione però C'è qualcosa che ancora dobbiamo attivare Eh cosa ti aspetti che facciamo Ok Va bene è un dungeon finale Si aspettano che usate qualsiasi mossa Abbiate sbloccato Eh si Beh la cosa è ancora molto lineare Affronto i nemici perché voglio arrivare ad un altro livello a 40 No 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 Poi tra l'altro bomba rapida funziona ancora molto bene Ed è una mossa che effettivamente posso fare Quindi Yei Yei Mossa che sono sbagliata è anche tornata Nel prossimo gioco Però va bene Quale è attivato? Ok Volendo potrei tornare indietro ma qui cosa c'è? Avete lo stesso problema negli boomerang brogs E' un attacco che vedo Un hitbox strana con le palle di fuoco Vedo la strana animazione col becco Wow siete sopravvissuti? Incredibile Grazie Au au Ok qua Mario si bruciera la sedia spessa apparentemente Dico Mario perché è sempre quello che viene attaccato da tutti Ok Spero di saltare addosso ma vabbè Sei solo? Bene Forse dovrei cambiare le tute di fratelli Perché mi sa che mi serve più Mario veloce qua Au E' più il Mario che mi serve Va bene Qua non c'è un fico secco Sembra che ci debba essere qualcosa che avverrà In questo castello Ci sono un sacco di cose che potrebbero avvenire E' troppo alto quello Yep Well questo è stato inutile Ciao Si sembrava una mucca però No Non perdo danno Vero? E' interessante però Non ho un ponte completo lì Sai gioco? Ok Stiamo giocando Sblocca tutte le porte Ok Grazie Per il teletrasporto Grazie Prima Gli option Au Ok Acceli qua E poi non devo essere Dove andare Ti lascio un altro blocco Kamek Tipo E poi sono altre Le questi cosi Ah probabilmente sono qui solamente Per quando ci sono i fagioli Non ha comunque molto senso Però Oh Non mi fai tornare in gi- Ah giusto Prendiamo la strada lunga Sembrava fattibile E qua l'hai fatto X Ok Grazie Vediamo ora tutti sti portali dove l'hanno fatto Sembra di averci sbloccato quasi tutti Ora capisco quella la parte Noiosa di questa parte Capire quale ho già fatto Quale no Entrambi non li ho fatti Oh Questa era dove dobbiamo andare O meglio Quello che ci ha detto Di andare a fare Poi Au Vabbè Devo ancora imparare E non sto ottenendo la difesa da mo' Beh queste due mi indicavo di andare Però non c'è niente Ah Buondì Serve un salto Ok Puro platforming Semplice Senza tech speciali In mezzo Eh Oh Ma era deciso di non saltare Che ci posso fare Scusami Luigi Luigi Posso fare così No Mi lascia Lo devo fare Tutto Ok Va bene Ah Salta Porco la miseria Mario Prendi Sto cavolo Pulsante Ah Ok È il momento giusto Magari Lascia andare Per le fiamme Ah Capito Anzi Permette meglio questa Più veloce E questo Dove dovevamo andare Però Tante altre cose Non abbiamo fatto Oh Buondì Insomma Non voglio farlo subito Guardiamo la mappa Vediamo lì altre cose Porto in particolare Non conosco ancora uno C'è la X Però la X Effettivamente Che cavolo fa La X Boh Ehm Triangolo rosa Ah Quello porta lì Quadrato Porta lì Il blu Il blu È quello che ancora Non sappiamo nulla Però dovrei fare Tutto il giro Oh madonna Mia Eh Tiriamocela per ultimo Va Unimpol소 Oh Il blu �� Il 32 Il Ok. E bloc è detto. Porti un altro tesserattacco? Oh mio Dio, adesso ho capito, sarà quello il difficile. Prendiamo coltassare l'attacco per finire la puntata, va, poi. Eh... Ok. Eh, ciao. No, non sei ancora morto, ok. Il fuoco ti fa perdere turni, quindi ok. Eh, sarà più complicato del previsto, se no. O forse no. Beh, come ti raggiungo? Che vuoi che faccio? Magari può fare ben poco quando è in questa forma. Aspetta, forse lo ris... Visto che c'è un altro buco là, quindi... Sì, ok. Ok. Bene. Prendiamo questo. Oh, martello. Ok, va beh. Di reiki intero un po' quella puntata. Continuiamo il dungeon la prossima volta. Quindi qua c'è tutto. Non c'è la prossima che se vi sia la puntata. Se avete deciso di lasciare un like e vi siete quanti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.